Sonia Brugganelli è fuori da Ballando con le stelle. Grandi emozioni stasera Ballando con le stelle. Anna Lu Castoldi e Francesco Paolantoni, nonostante la ballerina Anastasia, ancora infortunata, vincono lo spareggio, mentre Di Pasquale sorprende tutti, decidendo di non utilizzare la Wind Car. La serata segna l'eliminazione di Sonia Brugganelli che insieme al maestro Carlo Aloia restano visibilmente increduli per il verdetto. Colpi di scene e tensioni che lasciano il segno di una puntata veramente indimenticabile. Grazie per la visione!